Pianeta scrittura, antologie di scritti 2020-2022, volume quinto, speciale pandemia, due anni dopo dal Covid, alla guerra in Ucraina, della dottoressa Angela Ganci. Stato di emergenza per l'Ucraina, il fatto. Un nuovo stato di emergenza non ci voleva, hanno pensato milioni di italiani, dopo gli ultimi due difficilissimi anni. Ma in realtà quello deliberato dal governo, causa della guerra in Ucraina, è uno stato di emergenza profondamente diverso. Scordiamoci nuove restrizioni della libertà personale di ogni cittadino, a meno che non si verifichino recrudescenze della pandemia da coronavirus. Ben inteso, il nuovo stato di emergenza non ha nulla a che vedere con quello che l'Italia ha vissuto per il Covid-19. Nel Consiglio dei Ministri di ieri abbiamo stanziato 10 milioni di euro a carico del Fondo per l'emergenza nazionali, per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Per farlo è stato dichiarato uno stato di emergenza umanitaria che durerà fino al 31 dicembre 2022 e che ha esclusivamente lo scopo di assicurare il massimo aiuto dell'Italia all'Ucraina. È un impegno di solidarietà che non avrà conseguenze per gli italiani e che non cambia la decisione di porre fine al 31 marzo, allo stato di emergenza per il Covid-19. Ha sottolineato il Premier Mario Draghi. Quali conseguenze per la nostra penisola, a vostro avviso, derivano da questa emergenza umanitaria che si interseca con l'aumento dei contagi comunque riscontrato in Italia? Grazie a tutti.